L'avion, Flavio Pizzaiolo, su Peppe, qua io sei sempre numero uno, ma come si può fare? Sei riuscito a creare la polemica, cioè tu sei riuscito a fare pubblicità sulla pizzeria tua, frate, dove lo sai benissimo, no? Certo, lo sai pure tu, ma chi si mangiava che la pizzeria è bella? Cioè, nemmeno tuo figlio Facco, nemmeno Facco e i suoi migliori amici, tu riusciti a dire, povero Cabbiano, ehm... Fede, ora ti porto un altro consiglio, se io posso dire, ma io so che tu sei una persona scattata, la prossima, ora, c'è la mavità degli ufficitori con quelli che vendono i zeppoli di panzarotto con pietra e rote in mesi, Flavio, ma stiamo scherzando? Questi lo vendono pure 5-6 panzarotta in euro, ma cosa fa? Ma che ci mettono dietro? Scusami, le patane perute. la pasta cresciuta, rendersi un po' del avariato, facciamo una cosa, mettiamo il panzerotto a 34 euro ma mi ha arrivato amma frate, sai quanta scema aveva naso mangiato te allora panzerotto, noi possiamo chiamare così, ti do un'idea proprio tu, con la pasta struggata su numero uno allora Cresi Pallerisa, lo chiamiamo, oppure Eppi Stagioziel e poi vendiamo i pacchetti, il panzerotto in casa, lo vendiamo a 74 euro frate, ma chi ci fa noi, noi ci siamo a ingrippare contro il panzerotto e il soppolotteria panzerotto e il soppolotteria, avete le ore contate, si arriva a Flavio Passaiola, Pugnara, Maggiara